Proseguono nel centro storico di Catanzaro le attività del laboratorio storico esperienziale itinerante Trame di Seta, un percorso di riscoperta dell'antica storia della città legata alla nobile arte della Seta, una lavorazione che le valse l'appellativo di capitale europea della Seta per la straordinaria qualità dei tessuti prodotti nelle sue filande, che furono tra le merci più richieste nelle fiere e nei mercati di tutto il vecchio continente in un periodo compreso tra il 1300 e il 1700 circa. La storia di un'eccellenza che rivive in molti toponimi del centro storico cittadino antichi quartieri che raccontano la storia delle radici bizantine della città che non vengono ancora adeguatamente valorizzati. Continuano ad arrivare scolaresche da ogni parte della regione. Nella giornata del 27 aprile i protagonisti sono stati i bambini dell'istituto comprensivo Manzoni-Augruso di La Mezzia Terme che accompagnati dalle loro insegnanti hanno vissuto tutto il percorso della giornata dedicata alla Seta, partendo da San Floro per poi giungere a Catanzaro nel pomeriggio. Sì, sì, è stato un bellissimo percorso e ringraziamo la cooperativa Nido di Seta per averci dato l'opportunità di conoscere questa realtà che non conoscevamo. I ragazzi, i bambini hanno risposto bene? Sì, sì, sono stati molto coinvolti. Devo dire che le ragazze che hanno messo su questa cooperativa sono state veramente in gamba. Angela Rubino di Cultura Attiva per Trame di Seta, questo bellissimo percorso che sta affascinando un po' tutte le scolaresche che stanno arrivando qui a Catanzaro. Angela, c'è fermento, dicevamo anche negli scorsi giorni, per quanto riguarda il percorso della Seta. Voi ci avete sempre creduto? Allora, il nostro laboratorio Trame di Seta sta andando benissimo. Non possiamo che essere soddisfatti perché le centinaia di visitatori che hanno raggiunto il capologo di regione in questi giorni hanno molto gradito sia le attività che noi proponiamo e sia comunque la visita di questa città, di questi quartieri storici di Catanzaro che grazie a questo nostro laboratorio Trame di Seta vengono un po' valorizzati e fatti vedere, riscoperti e portati agli occhi di tutti i visitatori da tutta la Calabria. Sì, da tutta la regione, proprio interamente, da Cosenza fino a Reggio. Insomma, l'anno scorso anche da fuori regione, quest'anno ancora non lo sappiamo perché ancora il laboratorio durerà fino a giugno, quindi per la chiusura delle scuole.